ragazzi buongiorno a tutti quest'oggi mi trovo ad albenga in provincia di savona e vi mostro questo museo della croce bianca guardate qua spero si veda c'è il riflesso della vetrina che sono all'esterno guardate qua cosa vado a mostrarvi il museo della croce bianca guardate qua e che cosa c'è all'interno niente meno che uno spettacolare fiat 1100 ambulanza dei primissimi anni 50 se non prima guardate qua se non è una meraviglia questo fiat 1100 ambulanza veramente meraviglioso guardatelo qua tutto restaurato perfetto la targa temo sia nuova guardate qua se non è meraviglioso qui abbiamo le carrozze purtroppo si vedono poco questo è il museo e questo è il fiat 1100 ambulanza guardate qua ve lo mostro ancora guardate se non è spettacolo un 1100 ambulanza con questo vi saluto vi auguro ancora un buon 2019 a tutti da questo incredibile pezzo fiat 1100 ambulanza ciao a tutti